quali sono i periodi migliori per imparare a suonare la chitarra allora i periodi per imparare a suonare la chitarra migliori sono due essenzialmente il primo sono le vacanze estive quindi agosto ok tutti dicono eh ma io vado al mare ma io ecco impara a suonare la chitarra in quel periodo perché tantissime persone imparano a suonare in quel periodo e infatti ho tantissime testimonianze e corsi anche persone che sono entrate in questi corsi ad agosto ok luglio agosto e portavano i migliori risultati il secondo periodo che anche quello secondo me migliore perché invece fa freddo sono proprio le vacanze natalizie ok quindi dal 23 dicembre quando si finiscono i lavori non si lavora la scuola non c'è più gli studi comunque si fermano e si fermano un po tutte le aziende tutto il lavoro tutto il mondo dal 23 fino al 6 7 gennaio tutto quel periodo lì è un buon anzi è un ottimo punto di partenza per riuscire appunto ad imparare a suonare la chitarra però con una strategia qual è questa strategia beh in questi mesi ho attuato una strategia proprio per natale per riuscire ad imparare a suonare la chitarra in un modo veramente efficace quello che ho fatto è mettere insieme in un grande pacco di natale tutti i miei corsi di chitarra partendo da chitarra digitale che è il corso da 20 ore sono 200 video lezioni in cui impari a suonare le basi dalla a alla z quindi partiamo dagli accordi partiamo dalle basi teoriche fino ad arrivare a un modulo completo di più di 50 lezioni sul ritmo ritmi universali ritmiche nei vari generi musicali esercizi ritmici canzoni famose ritmiche per poi passare al come cantare a suonare contemporaneamente il blues il rock e il modulo sul canto tutto questo è chitarra digitale ed è imprescindibile è il corso che devi avere assolutamente per iniziare a suonare la chitarra parti da zero questo ti fa avere risultati in tre mesi vuol dire che impari a suonare le tue canzoni preferite in tre mesi in aggiunta chitarra digitale ho aggiunto anche volare che è il corso che ti permette di imparare un repertorio di canzoni italiane famose da suonare in compagnia ma sono a livelli significa che tu parti da una canzone che è facilissima italiana per poi aumentare di accordi ritmi e sensazioni e sensibilità chitarristiche l'ho chiamata cioè riuscirei a sviluppare sensibilità chitarristica accordi e ritmiche e canto diversi a livelli dalla prima canzone fino arrivare al livello finale che dovrai mandarmi su whatsapp questo è il corso volare quindi segui chitarra digitale per poi eseguire il corso volare che ti dà subito il repertorio di 30 canzoni famose italiane annesso quindi anche il canzoniere di consultazione di volare in seguito alla strategia abbiamo in aggiunta il corso che ho appena lanciato a black friday che è arpeggio digitale quindi il corso completo e verticale sugli arpeggi tu con questo corso riesci ad arpeggiare qualsiasi canzone tutti gli arpeggi che io utilizzo con la chitarra in qualsiasi canzone ci sono in questo corso chiamato arpeggio digitale come quarto punto in aggiunta c'è il gruppo whatsapp quindi verrà giunto a questo gruppo whatsapp di soli studenti e clienti in cui ci si aiuta a vicenda e potrai parlare ovviamente direttamente con me nel gruppo ma per finire voglio passare alla parte fisica perché ho aggiunto anche in esclusiva dopo anni i miei plettri firmati dennis bottero music il mio capo tasto firmato dennis bottero music e la mia tracolla firmata dennis bottero music e anche una chiavetta usb contenente l'accesso ai corsi questo pacchetto lo riceverai prima di natale questa è una strategia ok pensata tutti i corsi sono stati pensati per farti praticamente in due tre mesi iniziando da natale riuscendo a portarti a suonare le tue canzoni preferite avendo mille input e stimoli diversi per riuscire appunto a suonare la chitarra ma in un modo divertente perché per nemmoci chiaro tu devi divertire quando impari a suonare la chitarra non puoi romperti lì facendo due note tre canzoni quattro accordi del cacchio ti devi divertire suonando e cantando le tue canzoni preferite perché alla fine la chitarra acustica la chitarra classica la chitarra da spiaggia come la chiamo io è questo 20 per cento di teoria ma neanche e l'ottanta per cento di pratica come dal resto si è basato tutto il mio canale youtube per chi ha delle domande dei problemi non si fida oppure ha bisogno di informazioni ulteriori informazioni c'è un link che è un numero whatsapp di assistenza in cui risponderò personalmente oppure la mia assistenza quindi nel senso più facile diretto e affidabile di così non c'è infatti come azienda appunto di corsi di formazione di chitarra volevo essere l'azienda con con l'assistenza più veloce ed efficace in italia infatti se ci scrivi su whatsapp ti rispondiamo praticamente entro uno due ore questa promozione di natale la trovi qui giù nel link in descrizione c'è un link tu lo clicchi ed accederai appunto a tutte le informazioni per poter accedere a questo a questo pacchetto grande di regalo di natale